Sono Marco Vichi, mio padre mi diceva sempre che mi chiamavo così in onore del reggimento San Marco, corpo speciale della Marina ricostituito dopo l'8 settembre del 43. Mio padre, dopo i primi anni di guerra su navi e sommergibili, era entrato volontario nel reggimento San Marco dopo l'Arnistizio. Le sue storie di guerra che ho sentito raccontare fin da quando ero bambino hanno acceso in me la voglia di raccontare, mi piace pensare così. Mio padre era un grandissimo narratore e ho continuato a salvare storie veri di guerra anche di altre persone, dei miei romanzi e ho chiesto all'attore bravissimo amico Lorenzo D'Innocenti di leggerle una. E' successo proprio qui. I tedeschi facevano base all'abbazia e durante il giorno pattugliavano il bosco con i cani. Una mattina trovarono il mugnaio con lo zaino pieno di pane e capirono che lo stava portando ai partigiani. Impiccarono lui e tutta la sua famiglia a questa quercia, con le mani legate dietro la schiena, babbo, mamma e tre figlioli. Obbligarono la gente della zona a venire a vedere, c'ero anch'io, me lo ricordo come fosse ora. Le donne piangevano come vitelli. Giugiolo lo appesero lassù dove si vede quel grosso nodo. Aveva otto anni, lo tenero per ultimo e fece in tempo a vedere impiccare tutta la sua famiglia, prima il babbo, poi la mamma, il fratello e da ultimo la sorellina, dieci anni. Uno dopo l'altro li vide smettere di dare calci all'aria e poi toccò a lui. I tedeschi gli misero il cappio intorno al collo e lo tirarono su. Giugiolo scalciò più degli altri e appena si fermò i tedeschi cominciarono a cantare una canzone. Bordelli guardava i grossi rami della quercia e non poteva fare a meno di vedere cinque corpi che oscillavano al vento. A un certo punto la corda di Giugiolo si spezzò e lui cadde giù. Rotolò lungo quel pendio per almeno una ventina di metri con le mani ancora legate. I tedeschi erano sicuri che fosse morto e se ne andarono. Anche noi eravamo sicuri che fosse morto, lo avevamo visto morire con i nostri occhi. Non avevamo nemmeno il coraggio di andare a prendere il cadavere per seppellirlo e ce ne tornammo a casa masticando rabbia. Giugiolo rimase due giorni e due notti senza muoversi e il terzo risuscitò come Cristo. Il suo cervello era andato in malora, concluse il vecchio. Bordelli rimase in silenzio e nella mente continuavano a scorrergli le immagini evocate dal racconto. Il cielo era ricolmo di enormi e opprimenti nuvole color del piombo, simili a macigni ammassati nel letto di un fiume. Il verde cupo delle querce sembrava spandersi nell'aria e avvolgere ogni cosa di un colore verdognolo come in certi dipinti antichi. Il vecchio si passò una mano sulla faccia come per togliere via una ragnatela. Ancora oggi io non posso sopportare di sentir parlare tedesco, disse riprendendo a camminare. Anche a me succede lo stesso, borbottò il commissario. Quando incontrava nelle vie del centro un tedesco dai quarant'anni in su non poteva fare a meno di pensare alla guerra. Ogni volta si domandava se quel tranquillo turista in gita con la famigliola avesse ucciso qualcuno dei suoi compagni. Se avesse trucidato donne e bambini come a Sant'Anna o magari proprio a Sant'Anna. I tedeschi sono una brutta razza, commentò il vecchio. Gli italiani hanno fatto le stesse cose e anche peggio. Ma i generali che hanno comandato i massacri sono morti nei loro letti, disse Bordelli. Pensava soprattutto a Graziani, a Badoglio che avevano usato armi chimiche sui villaggi africani, su genti indifese che le gloriose bombe italiche squamavano di una lebra immediata. Pensava anche ai soldati italiani che avevano ucciso donne e bambini, che avevano violentato, torturato, umiliato, distrutto. Non c'erano scritte queste cose sui libri di scuola. Si parlava di Enrico Toti che lanciava la stampella e di Pietro Micca, ma non di queste cose. Gli italiani continuavano a credere di essere un popolo buono, un popolo di brava gente che portava la civiltà agli incivili, che regalava ai selvaggi le strade, gli ospedali, le scuole. Un popolo generoso che conquistava più con lavanga che con il fucile.